Il 6 marzo è la giornata europea della logopedia dedicata alle balbozze, una patologia che impedisce la fluidità della parola. Parola in libertà è il titolo della conferenza indetta dall'ASLB con Lia Rusca, direttore della struttura di medicina riabilitativa. Al tavolo dirigenti e specialisti del settore hanno illustrato quali siano i percorsi riabilitativi atti a risolvere il problema. È stato spiegato quali siano le strategie ottimali per parlare con il proprio bambino se soffre di balbuzie e capire se è balbuziente o disfluente, cioè se ripete o prolunga parti della parola. Il sintomo si manifesta tra i 3 e i 5 anni. Un trattamento individuale risolve il problema nel 75-80% dei casi. Una notizia positiva giunge dalla Camera di Commercio di Biella. Cresce il numero delle imprese femminili biellesi per il secondo anno consecutivo. In una situazione di grande recessione le donne si sono impegnate in varie attività dimostrando quale sia il potenziale femminile. Dall'analisi emerge che delle 4.518 imprese registrate lo scorso anno, 469 sono attività femminili under 35 e 208 straniere. Il presidente regionale Roberto Cota ha visitato l'Istituto Zooprofilattico di Torino, dai laboratori di diagnostica che si occupano fra l'altro dei recenti casi di bioterrorismo a quelli del controllo alimentare. Il Piemonte potrebbe diventare regione europea di eccellenza per il food e quanto affermato da Roberto Cota e Fernando Arnolfo, direttore generale dell'Istituto. Il territorio, con facoltà universitarie, enti e associazioni che si occupano della produzione agroalimentare avrebbe le carte in regola per ambire al titolo.